Voi siete stati anche criticati da qualcuno per questa scelta, ma la scelta non è vostra? Approfitto innanzitutto per dare gli auguri a tutti i telespettatori, visto che mi viene data questa possibilità con questa intervista. Passo al problema. Dal nostro regolamento i 26 comuni percepisce un tot, diciamo 100, che ogni comune destina propriamente per manutenzione straordinaria o per manifestazione istituzionale. Io non entro in merito al comune di Fano Adriano, che mi sensibilizza per la manifestazione istituzionale del presepio vivente di Cerqueto, che è il 46esimo, il 47esimo. Adesso mi si vuole criticare per quanto riguarda le manifestazioni, ma le manifestazioni sono una scelta del territorio, cioè del sindaco e della sua maggioranza e il delegato del Consorzio BIM. Quindi a voi il comune chiede dei soldi che hanno diritto ad avere perché fa parte dello statuto, poi quello che ci fanno lo decidono loro, a lei non hanno chiesto dateci soldi per il capodanno, quelli gli aspettavano? Manifestazioni istituzionali per il capodanno, se non era per il capodanno ma era per un concerto, io non vado a indicare al sindaco Brucchi qual è la destinazione che deve avere, assolutamente. Iso ha scelto di fare la manutenzione straordinaria, ognuno con il proprio budget destina i propri soldi, che dopo l'amministrazione ha scelto la festa di fine anno, ma è un problema del comune di Teramo. Lei l'avrebbe fatto il capodanno in quelle condizioni? Se avesse potuto scegliere, avrebbe dato quei soldi? Allora, no, è difficile dopo entrare in questa situazione anche un po', se vogliamo anche politica e strumentalizzare. È logico che il sindaco Brucchi ha avuto sfortuna del maltempo, del ghiaccio e abbiamo visto che un po' tutti abbiamo, come l'ho fatto io in casa di qualche amico, ma con il problema, ripeto, ghiaccio e neve era difficile. È logico, c'era da riflettere se era il caso di rinviarlo o meno, ma questo non è un problema che posso consigliare a Brucchi o meno, perché è una persona capace. È logico, diciamo che forse questo flop andava un po' riflettuto, se è stato un flop. Io non lo so perché non ho visto, non ho partecipato, quindi non so nemmeno di come si è andata le cose, solo che negli altri anni invece è stato un grosso successo. Grazie a tutti.